ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video video che sarà il primo di un'altra nuova serie diciamo una serie nella serie perché è sempre nella playlist nel contesto del risparmio dell' autosufficienza energetica sto intraprendendo un percorso dove costruirò un impianto diciamo a isola fotovoltaico con invertere accumulo in vari step la scelta dei componenti è stata abbastanza difficile perché purtroppo come avevate già visto nel video che avevo sconsigliato gli inverter troppo economici roba che si trova su amazon eccetera non li ritengo all'altezza di quelle che possono essere le esigenze normali senza cercare non plus ultra sul mercato però roba che funzioni bene e che costi il giusto ecco i componenti che costituiranno l'impianto fotovoltaico saranno principalmente gli accumuli quindi le batterie e poi ci sarà l'inverter che sarà un ibrido un inverter solare che gestisce la carica delle batterie e probabilmente farò anche un video con un regolatore separato vediamo cosa riuscirò a procurarmi cosa reputerò interessante e sarà tutto diciamo un susseguirsi di eventi il video di oggi però parla di accumulo quindi di batterie allora vi dico subito che ho preso due batterie al litio l'ultima tecnologia la migliore che abbiamo adesso le life 4 che sono le stesse che troviamo nelle power station diciamo top di gamma e ho scelto dei moduli da 12 volt da 12 volte perché perché mettendoli in serie possiamo fare 12 24 48 oppure con inverter diciamo più economici potremo anche usarla 12 quando si sceglie 12 24 48 diciamo che le prestazioni migliore le abbiamo con il 48 volte ma gli inverter costano di più le prestazioni peggiori le abbiamo coi 12 che costano meno poi ci sono i 24 che sono un buon compromesso quindi ho già preso ho già scelto un inverter ibrido 24 volte e oggi ho preso le batterie da 12 che mettendo in serie faremo 24 vi faccio vedere le batterie che ho scelto le spacchettiamo le analizziamo ne parliamo un attimino allora ho preso delle batterie di un marco che si chiama redodo batterie che prima c'erano sul mercato ma si chiamavano zoom molti di voi probabilmente non conosceranno né un marchio nell'altro mi sono informato su varie marchie vari tipi di batteria e mi sono imbattuto in dei video diciamo di youtuber stranieri che hanno dei canali specializzati nelle batterie e ho trovato molto interessanti queste vi lascio poi se volete il link a quei video sono dei video in inglese però riuscirete a capire anche le prove i test che hanno fatto su queste batterie perché le hanno anche completamente aperte ed è quello che mi ha fatto diciamo optare per una buona considerazione di questo prodotto perché ho scelto di fare un sistema con delle batterie a litio che comunque hanno un costo e non ho fatto il solito video che si vede con le batterie di recupero della macchina o del camion semplicemente perché queste batterie sono delle batterie deep cycle deep cycle vuol dire che sono concepite progettate realizzate per dare una tensione costante man mano che si scaricano mentre invece le batterie d'auto sono batterie per avviamento quindi che hanno uno spunto solo per un lasso di tempo e non sono fatte per dare delle prestazioni adeguate in un impianto di un fotovoltaico questo purtroppo bisogna ficcarselo in testa perché inutile vedere video dove vi fanno usare batterie di recupero che trovate dallo sfascia carrozze perché poi avrete un risultato che non è neanche mediocre ma sarà pessimo purtroppo ragazzi in queste cose il materiale costa conosciamo le nostre power station da 3 4 5 6 mila euro che sono già fatte sono già pronte vediamo se con questi sistemi diciamo fai da te riusciamo a risparmiare qualcosa e avere gli stessi risultati le batterie che esaminiamo oggi sono appunto 12 volt tecnologia litio rientrano comunque nella fascia economica perché perché sono comunque in rapporto qualità prezzo un ottimo prodotto parliamo però comunque di batterie che costano 400 euro l'una da 100 per ora che sono poi circa 1,3 kilowattora dunque di queste batterie ne userò due per fare una serie appunto da 24 volte quando siamo in serie sommiamo la tensione ma la capacità rimane uguale quando siamo in parallelo la tensione rimane uguale ma sommiamo le capacità tante volte mi scrivete nei commenti che ho fatto di altri video come dimensionare gli am per ora di una batteria in base al fabbisogno che ne abbiamo e adesso vi spiego più o meno come si fa il calcolo prendetelo con le pinze perché è molto approssimativo nella realtà dei fatti i calcoli sarebbero un po più precisi un po più dettagliati allora ragioniamo in questo senso noi abbiamo una batteria che passa da un inverter che trasforma la bassa tensione dc in ac alternata 230 volte e poi abbiamo l'utilizzatore ok che consuma determinati watt prendiamo un utilizzatore da 1000 watt e prendiamo un inverter che mediamente ha un rendimento dell'80 per cento questo valore è importante ma può variare ma più o meno siamo lì vuol dire che 1000 watt dell'utilizzatore con l'80 per cento di rendimento dell'inverter si traduce in 1200 watt che vengono prelevati dalla batteria sempre approssimativo 1200 watt diviso i 12 volt della tensione perché adesso facciamo l'esempio con una batteria da 12 volt 1200 watt diviso i 12 volt della tensione fa 100 ampere 100 ampere di utilizzo vuol dire 100 ampere ora di consumo con una batteria da 100 ampere ora e un carico da 1000 watt noi abbiamo circa un'ora di autonomia calcolo sempre fatto approssimativamente sappiamo quindi che se quell'utilizzatore da 1000 watt abbiamo bisogno di tenerlo acceso per tre ore vuol dire che dobbiamo avere 300 ampere ora di batteria e che nel caso di batteria da 12 volte ne dobbiamo mettere in parallelo 3 questo è il semplice calcolo che potete fare quando volete dimensionare delle batterie in un circuito con un inverter e un utilizzatore ora facciamo che iniziare a spacchettare le batterie vediamo come sono fatte vediamo come l'imballo e poi dopo ne riparliamo un attimino dunque pacco che arriva dal magazzino europeo situato in germania a berlino consegna in pochi giorni abbastanza veloce sulla scatola vediamo già il marchio con la scritta che viene comunque prodotto in cina abbiamo sulla scatola l'indicazione del prodotto che contiene batterie marchio c'è certificazioni ross tutte le indicazioni anche per lo smaltimento un prodotto diciamo che segue determinate regole certificazioni e tutto il necessario apriamo l'imballo allora aperta la prima scatola troviamo il manuale del prodotto in tedesco ma anche in inglese con dentro tutte le caratteristiche le misure della batteria il peso l'attacco delle viti che hanno filetto m8 tutte le procedure di connessione e di test per vedere se la batteria carica tutte le caratteristiche con ad esempio le temperature di esercizio dove la batteria può lavorare da meno 20 a più 60 gradi centigradi ma dicono anche che le condizioni migliori di funzionamento e di storage dell'energia sono da 10 gradi a 35 gradi le classiche indicazioni di una batteria dove viene ricordato che se non la utilizziamo per molto tempo andrebbe tenuta a un livello di carica del 50 per cento e che va ricaricata comunque ogni tre mesi qui abbiamo tutte le indicazioni sulla logica di ricarica per una batteria live po 4 abbiamo anche le indicazioni per eventuali ricariche dal solare ad esempio per questa batteria consigliano un pannello da 300 watt per la ricarica ci sono poi indicati anche i valori di corrente per la ricarica ottimale dove con una corrente di 20 ampere ricarichiamo questa batteria in circa 5 ore con una corrente di 50 per chiaramente la carichiamo in due ore abbiamo tutti i parametri da impostare eventualmente su un regolatore per la fase di carica e discarica abbiamo poi anche una tabella che riassume le tensioni con le varie percentuali di carica dove a 10,8 volt raccomandano di impostare il distacco abbiamo anche tutte le indicazioni per le connessioni in serie o in parallelo e in fondo al manuale abbiamo anche una tabella per impostare i parametri di ricarica di un inverter con caricatore integrato abbiamo poi tutti i controlli da fare in caso la batteria non funzioni insomma un manuale che è comunque molto molto completo questo bisogna riconoscerlo abbiamo anche una pagina in cartoncino spesso dove ci ricorda velocemente di metterla in carica di portarla al 100% tutte le operazioni preliminari e anche come procedere in caso di rimessaggio prolungato qui abbiamo un sacchettino con due cappucci copri terminale e le viti che potremmo quindi avvitare e poi coprire con il cappuccio una generosa protezione superiore fino ad arrivare alla nostra batteria a volta ancora dentro un sacchetto di plastica la tiro fuori e qui abbiamo la nostra batteria dunque equipaggiata con una comoda maniglia batteria che vedete si riesce a tirare su comodamente con una mano tutte le caratteristiche che già abbiamo citato sul lato posteriore le stesse indicazioni ogni batteria viene segnata col proprio serial number qui sopra abbiamo i terminali dove avvitare le viti m8 e null'altro che ci possa interessare le due parti in plastica sono salvate ma come vi ho accennato prima ho guardato dei video stranieri dove le hanno disassemblate per capire come sono fatte all'interno e avendo visto che comunque ne viene apprezzata la qualità costruttiva anche per quello mi sono orientato su questo marchio sulla parte inferiore non abbiamo nessun piedino in gomma questa è la nostra batteria di queste ne ho prese due perché le utilizzerò con un inverter le metterò in serie per avere quindi 100 am per ora su una serie di due batterie da 12 quindi sul 24 volt faremo diversi test ma nei quali non proverò a disassemblarle perché alla fine di tutti i test e di tutti i video che andrò a realizzare molto probabilmente le metterò poi in vendita perfetto abbiamo visto come sono fatte le batterie abbiamo visto che qualcuno le ha già smontate le ha già aperte come vi ho detto io non lo farò però ad esempio per queste da 12 volt 100 per ora posso dirvi che all'interno hanno quattro celle di grado a e che sono batterie certificate c'è come struttura come carcassa della batteria abbiamo una certificazione di grado ip 65 quindi vuol dire che sono protette da l'intrusione di corpi estranei e che sono protette da piccolissimi gt d'acqua spruzzi o schizzi chiaramente non sono tenuta stagna però hanno un minimo di protezione come abbiamo visto c'è un completo manuale che aiuterà voi ma anche me a impostare correttamente il funzionamento di inverter regolatori eccetera mentre per quanto riguarda la struttura il peso della batteria avete visto che sono riuscito a prenderle con una mano perché calcolate che una batteria di queste pesa circa 10 11 kg che sono almeno la metà se non un terzo di una batteria d'auto della stessa capacità altri dati tecnici che possono interessarvi abbiamo semplicemente la percentuale di batteria realmente utilizzabile che è del circa 90 per cento e secondo me con questo video di spacchettamento e presentazione del batteria abbiamo finito le metteremo poi sotto torchio quando andremo avanti con la costruzione dell'impianto arriva la bella stagione e approfondiremo meglio come si comportano e come riusciremo ad integrarle nelle varie tipologie di installazione vedremo poi anche la sezione dei cavi i fusibili le protezioni insomma vedremo poi un po tutto io per adesso la fermo qui vi ringrazio comunque di aver visto il video se vi è piaciuto un bel like se volete rimanere aggiornati su questo progetto che porterò avanti non costa nulla iscrivetevi al canale magari all'interno nelle varie playlist troverete altre tipologie di video che potrebbero interessarvi grazie a tutti ci vediamo al prossimo video alla prossima diretta del giovedì sera ciao da massidattoli grazie a tutti